Ok, sono Marco, 22 anni, educatore e musicista, nonché ragazzo del Rune Sanità, che oggi porta, tra virgolette, in dono la sua esperienza. Sono un educatore a livello di centri educativi e lavoriamo tutti i giorni sia con bambini che con genitori. E noi doniamo il nostro tempo, poiché ci è stato donato del tempo da altre persone. La stessa cosa avviene con la musica. Ci sono dei maestri che donando il loro tempo, che hanno regalato a noi il loro tempo, hanno creato una prima orchestra giovanile e da questa prima orchestra ne è nata un'altra, una seconda. E noi, diciamo ragazzi più grandi, doniamo il nostro tempo ai più piccoli affinché il messaggio del dono possa passare. Alla sanità ci sono varie realtà come le catacombe, il teatro, la danza, la musica. E' tutto un donarsi di esperienze e di volontarietà.